Signori benvenuti in una nuova puntata fantasticissima, la seconda della All The Mod 7 Raga nella scorsa puntata abbiamo fatto un po' di esplorazione, cioè abbiamo esplorato un dungeon al volo Abbiamo trovato cose interessanti, ma soprattutto abbiamo craftato lui Abbiamo craftato il builder con il clearing quarry upgrade e stiamo scavando un bel po' di roba Cioè, raga, tanta roba Ah, se vedete un Roll The Modium, ragazzotti, non è perché l'ha scavato il quarry, perché non può scavarlo Cioè, se voi andate a vedere All The Modium, vi dice proprio che non è quarryable, che non è scavabile dal quarry Quindi, cosa è successo? Praticamente io ero, cioè ero qua, ho detto vabbè, butto un secchio d'acqua e guardo se ha trovato magari un pezzo di Old The Modium Tra l'altro da qua mi sembra di vederne un altro, a meno che non sia zolfo Ah, tra l'altro sono in pacifica perché il quarry è tre giorni che sta scavando Cioè, faccio capire, no, tre giorni no Però almeno due penso di sì Mi sembra di averne visto un altro pezzo di là Però, boh, non vorrei che me lo stessi immaginare Vabbè, quindi abbiamo fatto il quarry, abbiamo ottenuto un sacco di materiali utili Tra l'altro qualcuno di voi avrà notato sicuramente che ho messo degli upgrade alla chest Ovvero il Compatting Upgrade e il Stack Upgrade tier 4 Che vuole un sacco di materiali, ragazzi, infatti sono dovuto andare da solo a scavare diamanti Per fare questi upgrade Però, vabbè, dai, me ne ha trovato altri diamanti Oltre a quelli che aveva già trovato, ho preso altri diamanti Quindi, come potete vedere, oggi, ragazzi, mi sono svegliato con questo cazzo di fastidio alla gola Vabbè, come vedete è un, diciamo, un crafting concatenato Abbiamo prima quello di diamante, quello d'oro, quello di ferro, quello normale E quello è il crafting base Poi, questo è abbastanza facile da fare Vuole giusto qualche pistone, qualche pezzo di ferro, quindi niente di che Abbiamo sei blocchi di redstone compressi Che vuol dire che sono sei per nove Circa da quattro redstone blocchi normali Per nove sono Quattrocentocinquanta e passa pezzi di redstone Buono Abbiamo un casino di copper, un po' di ferro, niente male E tutti questi materiali Poi abbiamo di nuovo il ritorno dell'ottima stella di Tepis Che è un oggetto che praticamente ci permette di fare in modo molto diverso Come possiamo vedere L'eternal stella L'eternal stella è un oggetto che praticamente nella smetting table Con qualsiasi tipo di oggetto Con qualsiasi tipo di strumento Lo rende praticamente immortale Cioè indistruttibile Era molto carino nella old mode 6 Infatti se non sbaglio avevo praticamente quasi tutto Indistruttibile Benissimo Ragazzotti Ragazzotti Un attimo solo Quindi ragazzi questi sono i materiali che abbiamo ottenuto Ovviamente più avanti Cioè tipo quando finirà l'ultima volta di fare Diciamo questo Di scavare questa roba qua Andrò a piazzarlo nel nether Perché Perché sì Perché sì Perché sì Allora Quindi noi Per il momento lo lasciamo Così Oggi cosa facciamo ragazzotti Io direi assolutamente di spostarci Per la caccia Di fare una casa nostra E di Costruirla Magari qui vicino Adesso Cosa stai smaltando tu? Ancora vetro? Vabbè Cioè Non essendo ciancato il posto È normale che Non l'avesse finito di 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 cuocere Facciamo così No ma perché? No 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 Aspetta Via 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 Allora Usciamo fuori E ci scegliamo Un bel posto Per costruire Una casetta Ma io direi Anche questa isoletta Non è male Però se fosse un po' più grande Sarebbe anche meglio Vabbè Potrei ingrandirla io Con la Con la Dirt Magari tipo Pianeggiare tutto Adesso vediamo Adesso vediamo Allora ragazzi Oggi faremo Solo la nostra nuova Casa Decidendo praticamente Durante la puntata Come costruirla Per il momento Andiamo a prendere Ovviamente Dei diamanti Perché Mi serve fare Degli strumenti Di diamante Facciamo così Facciamo così Perfetto Bene 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 Home Thank you so much Andiamo a prendere Degli sticker Che non ho Vabbè C'ho del legno Quindi dovrebbe essere Abbastanza easy peasy Lemon squeezy Perfetto Facciamo così 47 diamanti Il cuore mi ha trovato Buono 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 Quindi facciamo così E così Perfetto Buttiamo dentro Tutto quello che Non ci serve Questo me lo tengo I diamanti Li mettiamo Da parte Ce l'avevo già La diamond shower E ho sprecato Come un idiota Un diamantino Vabbè Tieni Tra l'altro Voglio vedere una cosa Questo E' possibile Recuperare I diamanti In qualche modo Cioè Tramite il pulverizer Ok Oppure Tramite la tinker Però preferirei farlo Tramite il pulverizer Oppure Tramite questo Crimson steel lingot Un blocco di diamante Un'ossidiana E tutta roba Che alla fine Possiamo fare Quindi Niente di Di complicatissimo Ok Era un pezzo Di sand Allora Quindi Innanzitutto Buttiamo giù Questo legno Questo Quest'albero Così almeno Riusciamo a farci Un po' di spazio Ultima frontiera Oppela Togliamo pure Il resto del tronco Povero gattino Povero gabbiano Che ha perduto La compagna Cazzo di canzone Ok Liberiamo Il tutte cose Qua togliamo Questa Questa Mussiston Che potrebbe anche Servirci Tra l'altro E c'è Un dark oak In mezzo A tutti Questi spruce Ok Allora Pianeggiamo Tutto Proprio al volo Al volo Senza Perdere Molto Tempo Allora Stavo pensando Di fare Una Una casetta Proprio Semplice 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 Poi ovviamente Magari Sviluppare Una sorta Di villaggio C'è anche la mine colonis Però come detto Forse Non so se l'ho detto Nella prima puntata Praticamente La mine colonis È bella Però Ha quel brutto vizio Di Come si dice Di fare le strutture Di non dare La scelta Cioè si C'è una scelta Per le strutture Perché ti fa scegliere Tra varie Tipologie di strutture Però Alla fine Non puoi Semplicemente Costruirla Tu Una struttura E metterci Semplicemente Il villagero O comunque Quel tizio Dalla mine colonis Avrei preferito Così Avrei Proprio Preferito Il contrario Cioè Il fatto Che io Potessi Scegliere Per l'appunto Di costruire Cioè Che potessi Costruire A tutti gli effetti La struttura E poi Andare a inserirci Magari Un oggetto Un macchinario Come privilegiare Vanilla C'è tipo Il composter Per renderlo Farmer Lo stand Con il libro Per renderlo Bibliotecario Eccetera Eccetera C'è una cosa simile Però Con la mine colonis Non si può fare Purtroppo Perché Sono stronzi Noi abbiamo Le nostre strutture E ho capito Questa è tutta Corsa e dirt Quindi non ci Crescerà nemmeno L'erba Il che non è Che mi piaccia Più di tanto Però effettivamente Può essere Resa a dirt Semplicemente Utilizzando Una zappa Quindi Molto easy Allora Togliamo gli ultimi pezzi Di dirt Per pianeggiare Tutto Opera Perfetto 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 Dai Muoviti Poi dobbiamo vedere Allora Dovrebbe esserci L'apoteosis Quindi dovremmo avere Un piccone Con siltac Per poter Raccogliere Tutti i vari spawner Che abbiamo trovato Nel dungeon Cosa che Faremo Sicuramente Perché voglio Farmare Come uno zozzo Allora Questa È la nostra Isola Io direi Di sostituire Anche Tipo La sabbia Perfetto Ovviamente Io direi Di sostituire Anche La Puzzle Che Non mi piace Come Come erba È carina Ma No Non Non mi entusiasma Tantissimo Diciamo Preferirei Magari Tipo Mettere La Grasse Normale Ok Questa È la nostra Di stare Iniziale Ovviamente Dobbiamo Aspettare Un attimo Che cresca L'erba Dappertutto Però voglio Anche Un attimino Pareggiare Perché Così Non è che Mi piaccia Più di tanto C'è fatta Un po' Un po' Malino Diciamo Così Vediamo Se mi potrebbe Piacere Magari È fatta Così Così Un altro Pezzettino Sì Dai Ci può Ci può Stare Ci può Stare Ci può Stare Dai Ovviamente Dobbiamo Sistemare La Corsa Dirt Ci serve Una Zappa Per farlo Quindi Andiamo Buttando Non c'ho Spazio Nelle Ceste Facciamo Così E così Perfetto Allora Ci servono Due Stick Due diamanti So che È uno Spreco Ma sti Cazzi Tanto abbiamo Il quarry Quindi se Vogliamo Ritrovare Dei diamanti Semplicemente Lo possiamo Fare Mettendo Di nuovo Il quarry Quindi Facendo Così Praticamente La Corsa Dirt Diventa Dirt Normale Quindi Può Ricrescere L'erba In questa Dirt Magnificia Penso Che sia Abbastanza Come Bricchettini Dai Un po' Gli ho scavati Un po' Li abbiamo presi Dalle ceste Eccetera Eccetera Allora Con questi Bricchettini Volevo fare Questo Contornino Così Non Penso Che andremo Ad occupare Tutta la La Larghezza Della Tutta la Lunghezza Della Dell'isola Però Nel caso Volessimo Farlo Dovrei Avere Abbastanza Bricchettini Poi ovviamente Dove mancano Andiamo A metterli Ugualmente Dove manca Anche la Dirt Andiamo A mettere Questi Così Qua Solo Che Facendo Così Magari Non mi Bastano Poi Ma Non Penso Non Credo Abbiamo Tipo 28 Stack Di Bricchettini Quindi Non Credo Che sia Un Ora Bisogna Costruire La casa Vera e Propria Allora Io Mangerei Le mele Perché Le carote Vorrei Tenerle Per Piantarle Poi Vabbè Non Penso Che Siamo Così Come Si Dice Messi Male Da No Vabbè Semi Ne abbiamo Anche Abbastanza Quindi In teoria Potremmo Anche Accontentarci Di Quelli Allora Facciamo Così 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 Questo Buttiamo Qui Dentro E Questo Qui Dentro Thank You So Much C'è Ancora Un Po Di Roba Qui Dentro E Quindi Allora Prima Di Tutto Prima Di Tutto Prima Di Tutto Prima Di Tutto Andiamo A Prenderci Dell'ottimo Redwood Anche Uno stack Così Anche Solo Uno stack Volevo Dire Andiamo A dormire Quando Fa notte Porto Dietro Il letto Così Almeno Ecco Qua Perfetto Molto Bene Molto Bene Molto Bene Benissimo Dormi Dormi Vabbè Comunque Facciamo Così Dobbiamo Fare Il frame Della casa Dobbiamo Capire Un attimino Cosa Vogliamo Fare Come Vogliamo Costruirla La nostra Casotta Togliamo Pure Il letto Allora Io direi Innanzitutto Dove Sorge Il sole Dove Sorge Il sole F3 Dove Sto Guardando Io Vediamo 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 Però Potevano Mettere Quella Normale Non Si Capisce Niente Ah Ok Sto Guardando Verso Nord Quindi Quello È Est Quindi In teoria Magari Facciamo Una bella Vetrata Di qua Dove C'è Casa Nostra Lo Mettiamo Di là Praticamente Mentre Anche 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 Da Da Qua Facciamo Una Sorta Di Grande Vetrata Per Dove Mettiamo La Camera Da Letto Poi Qui Allora Quindi Delimitiamo Già Dove C'è La Camera Da Letto Facciamo Così Non Voglio Niente Di Effettivamente Troppo Grande Così Magari Qui Ci Mettiamo Non So Un Balcone Piccolino Poi Così Così Modo Perfetto Poi Qui Abbiamo Detto Possiamo Farci L'ingresso Oppure Lo Possiamo Fare Di Là Che Più Grande Possiamo Fare Una Cosa Del Genere Come Ingresso In Linea Perfetto Poi Qui La Casa Farà Così 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 No Anzi Così Poi Qua Scenderà Qua Possiamo Fare Una Sorta Di Cosa In Diagonale E Si Riunisce Così Dovrebbe Andare Bene Perché Questa Magari Tipo Possiamo Fare In Diagonale Lo Stesso Fare Una Cosa Del Genere No In Modo Che Non Sia Proprio Tutto Dritto 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 Magari Questa L'allarghiamo Un attimino Verso Qui Fa Vedere No Non mi Piace Non mi Piace Non mi Piace Non mi Piace Trifare Una Cosa Del Genere In Modo Che Non Abbia Una Forma Proprio Ben Definita No Possiamo Tipo Già Unire I Punti No Vedere Se Effettivamente Esce Una Cosa Carina Oppure Una Cagata Così Vedi Tipo Già Qua Avrei Tolto Questo Pezzo Qua E Anche Questo Anche Se Lo Volevo Fare In Diagonale Però Magari Tipo Facciamo Così Direttamente Ma Lì Ci mettiamo Un paio Di Decorazioni Non Lo So Una Cosa Del Genere Poi Facciamo Così Però Magari Qui Uniamo Le cose I puntini Così No In modo Che non Sia Proprio Troppo Spigoloso Facciamo Così Ok Qui Lo Stesso Idem E Qui Lo Stesso Vediamo Sì 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 Ci può Stare Adesso Andiamo A prendere Dello Spruce Dell'ottimo Spruce Che ce l'abbiamo Qua Allora Niente Da dire Che Ovviamente Allora Potremmo Fare Dei Bricchettini Così Polished Basalte Poi Così No Ma Così Posso Farlo Sì Potrei Fare Dei Gradini Ok La risposta È sì Dicevo Ovviamente Quello Sarà Il nostro Pavimento Cioè Non andrò A scavare Il pavimento No Quindi tipo Questo Facciamo Così Proprio Per Decorazione Ok Poi Il pavimento Lo Vero Fare Con Il Redwood Quindi Molto Molto Easy Così Anche Bellino Sembra Una Sorta Di Bricchettino Più Che Delle Planks Molto Carine Poi Ci sta Anche Con Il bioma Dove Ci Troviamo Ci sta Benissimo Dai Ok Sta Già Iniziando Un po A Prendere Forma Ragazzotti Sta Già Iniziando Veramente A Diventare Qualcosa Di Carino Da Vedere Allora Le mura Le mura Le mura Le mura Della Casa Le mura Della Casa Io le Volevo Fare Proprio A Confine Con Il Blocco Qui Qui Sopra Sopra Il Redwood Planks Solo Che Quale Materiale Utilizzare Siccome Abbiamo Utilizzato Comunque Materiali Scuri No Sia Per Il Frame Che Per Questa Decorazione Qua Io direi Di Utilizzare Un Materiale Un Po Più Chiaro Per Quanto Riguarda Le mura Quindi Tipo Non So Un Andesite Un C'era Anche Tipo Un Blocco Qua Ma Potremmo Utilizzare Effettivamente Vado A raccogliere Un Po Di Materiali Un Attimino Solo Ci Metto Poco Perché Comunque Vorrei Mischiare Magari Anche La Mossiston A Tutte Cose Quindi Il Resto Dei Materiali Vediamo 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 Come Come Strutturare La Ok Raga Abbiamo Raccolto Un Po Di Materiali No Abbiamo Preso Un Bel Po Di Roba Adesso Ve le Faccio Vedere Abbiamo La Mossy Cobblestone Un Po Di Cobblestone Che Ci Può Sempre Stare Dell'Andesite E Questa Rocky Stone Che Carina Da Vedere Dai Allora Mentre La Campana Suona Vi Giuro il giorno Che metto Una bomba A quel Campanile Mamma Mia Io Vorrei Un Non So Come Si Chiamasse Trowel Mi Sembra Che Si Chiamasse Tro Scrivere Vell Magari Riusciamo A Trovarlo Più In Fretta Era Un Oggetto Della Quark Mi Pare Non Della Quark Della Ah Non Mi Allora Podiamo Scrivere Quark Ah Non C'è Proprio La Quark Era Molto Utile Perché Ti Permetteva Di Avere Degli Oggetti All'interno Della Main Bar Cioè Della Barra Principale E In poche Parole Ti Permetteva Di Piazzare In Modo Casuale Senza Che Tu Dovevi Romperti Le Balle Nel Farlo Quindi Molto Molto Utile Allora Andesit Poi Rocky Stone Perfetto Chi Sono Solo Quella Ne Ho Veramente Poca Iniziamo A costruire Ovviamente Il nostro Muro Ci vediamo Fra un po Raga Ok Raga Questa È La Situazione Allora Ho cercato Di Fare Dei Pattern Casuali Per quanto Si possa Provare A farlo Perché Comunque Non Avendo Per L'appunto Quella Mod Che Ti Permetteva Di Diciamo Mischiare Un attimino Le cose Con Uno strumento E basta Ho dovuto Farlo a mano Purtroppo Allora Adesso Voglio Vedere Un glass Carino C'è C'è Questa Mod Che Della Che Non Conosco Non Ho Mai Utilizzato In vita Mia Raga Quindi Non Lo So Perché Volevo Fare Allora Prendiamoci Innanzitutto Dov'è Il glass Che ha Cotto Sao ne Avesse Cotto Un po Di Più Però C'è La Time In a Bottle Time Vediamo Sì C'è Che Però Ovviamente Si fa Con L'unotanium Mamma Mia Ma Porca Mise E Vabbè E Vabbè E Vabbè Allora C-pad Come Funziona La C-pad Abbiamo Carpenters Shepherd Mason Scholar Tinker Secondo Me Dobbiamo Fare Questo Glass Blower Che Secondo Me Praticamente Ti Cambia Il Pattern Dei Come Si Chiama Del Glass E Ti Permette Di Farlo In Modi Diversi Quindi Diciamo Una Cosa Carina Nuova Allora Lo Piazziamo Di Qua Vuole Semplicemente Dei Log Un Pezzo Di Brick Una Crafting Table Del Ferro La Blast Full Nace Un po' Dovrebbe Dovrebbe Aver Finito Tra L'altro Qua Ci abbiamo Un pezzo Di Old Temodium Ragazzi Ce la Facciamo Ci manca Un solo Pezzo Di Però Non ho Legna Qui Gazzarola Vediamo Se Siamo Fortunati Siamo Fortunati Abbiamo Abbiamo Possibilità Di Fare Una Crafting Table Un Secchiello E Poi E Poi Ovviamente Mi Servirebbe Dell'acqua Il Problema E Che Effettivamente Acqua Ah no Questo È Perfetto Andiamo Nel Quarry Dicevo E Proviamo A vedere Se Abbiamo Tenuto Se C'è Dell'ultimo Odium Qua Nascosto Speriamo Di Sì Proviamo Iniziamo A buttarci Così Piano 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 Non c'è Bisogno Di Accelerare Le cose Ne Si sa Di No Stavolta Non siamo Stati Fortunati Non abbiamo Trovato L'ultimo Odium A meno Che Non riusciamo A trovarlo Mai Nella Parete Diamo Un'occhiata Ma Non Non Credo Non Credo Di Vedere Dell'ultimo Odium A meno Che non Sia Quello No Quello È Gold Quello Dovrebbe Essere Gold No Non Mi Sembra Di Vedere Quello È Sempre Gold Quello È Sulfur No 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 Non abbiamo Trovato Per niente Dell'ultimo Odium Peccato 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 Vabbè Facciamo Corri Io direi Di Farla Farlo Andare Aspetta Dieci Vediamo Come si comporta No Facciamo Meno No Non Meno Dieci Ma non Ho messo Dieci Scusa Scusa Se io Faccio Meno Trenta Ok Me lo Piazza Di là Eh Scusa Se io Faccio Così Dovrebbe Scavarmi Di là Postazione Dell'odata Di là No Ma non è Che non Ho accettato L'impostazione Quindi Scusa Stai Fermo Allora No Meno Trenta Eh Vuol dire Che sta Scavando Qua Fai vedere Non so Da dove Abbia Iniziato Ok Ha iniziato Da qua Perfetto Ok Lo facciamo Scavare Sperando Di trovare Altro Ultimo Perché Ragazzi Manca Effettivamente Un solo Questo è andato Al cuore Per prendere Il coal Da notare Minchia Un coal Block Cioè Vabbè Vabbè Cioè Lasciamo Lasciamo stare Così In teoria Potremmo ottenere Molti più Materiali Se avessimo Una Una Gastatia Potremmo effettivamente Andare a chiaparla La gastatia Vedremo 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 Vabbè Per il momento Non è urgente Quindi facciamo così Eh Ciccio Ma Non ti ho Ciancato ancora No Vabbè Facciamo così E così Facciamo anche così Dato che ci siamo Tanto poi Questa torre Non la Ciancherò più Va bene Tu fermati Mi servono Tre pezzettozzi Di Di stone Nel frattempo Ti faccio fare È la cosa Che odio Di Raga Dovete sapere Che ci sono Tanti oggetti Vanilla Che non sopporto Cioè Uno di questi È il comparatore L'altro È il pistone Un'altra cosa Che mi fa girare Il cazzo Molto Tanto 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 È la Blast Furnace Che ovviamente Lo sapevo Che prima o poi L'avrebbero messa In mezzo ai crafting Modati E infatti È stato così Ok Smooth stone Ferro ce l'abbiamo Questa te la faccio Continuare a cucinare Tiene Tiene anche Il vetro Dovrebbe essere Una fornace Del ferro Questo E tre di questi Blast Furnace Poi tutto il resto Non ce l'ho Perché mi serve Una crafting table Che spero Vivamente Ti vada bene Seriously Vabbè 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 Allora Poi un brichettino Bricchettino Bricchettino Bricchettone Questo lo buttiamo Qui dentro Perché non ho dei brick Ah infatti Ho detto Ma li ho scavati Allora Bricchettino Vettro Ce l'ho Dei log Log che Li ho qui dentro Perfetto Quindi facciamo così E così Ok Vediamo come funzioni Tu Allora innanzitutto Andiamo a dormire Perfetto Thank you very much Facciamo Piazziamolo E mettiamo il vetro Ah lui vuole direttamente Come si chiama I Allora non mi viene il nome I glass pane Non Non vuole I cosi Vabbè Possiamo fare così Mettere direttamente Questi Perfetto Vediamo se c'è qualche vetro Che mi può piacere Questo Ci potrebbe stare Magari Tipo questo Possiamo fare così Vediamo se ci sta bene Oh a voglia Molto carino Molto 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 bello Sempre meglio del vetro vanilla Raga Sempre meglio del vetro vanilla Facciamo così Così Thank you Lì ci andrà una porta Lì ci va un'altra cosa Perfetto Ci sta Ci sta Ci sta Allora Come porte Andiamo a vedere Se abbiamo delle scelte Magari Uh C'è C'è la Macav's Door Oh Bella 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 Questa mi piace Questa mod Mi piace veramente Perché poi ti aggiunge i ponti E cose del genere I tetti C'è Mamma mia Che figo Che figo Che figo Allora Abbiamo come porte Però Diciamo che Abbiamo Sempre il 2% C'è la La porta semplice Sono le porte Molto carine Quelle là Tipo Industriali Ecc La porta del saloon No Che figata Che figata Dark Hoak Nether Door Questa come si fa La Crimson Door Crimson Planks Ah ok Bisognerebbe andare nel Nether Andare a vedere Allora Che tipo abbiamo Hoak Door No vabbè Queste Mystic Nether E poi tutto il resto Anche questa Non è male Come porta Questa Modern Con il vetro Questa non mi piace Full panel Ah però Questa vuole Questa cosa qua Questa è il vetro Non mi piace Non mi convince molto Col vetro Lo sapete Questa è della La porta del cottage No Questa assolutamente La devo fare La devo fare Questa ci può stare Allora Facciamo così Andiamo a prendere Qua mettiamo Il waypoint Home Suite Home Perfetto Poi Andiamo a prendere Della paper Che dovrei avere In quantità Industriale Ragazzi Io mi ricordo che Avevo preso Un sacco di carta Ma a livello sceni Cioè È proprio da buttarla Perché ne ho solo 29 Scusa Non mi tornano I conti Va bene Non importa Who cares 1, 2, 3, 4 Facciamo così Poi vuole Allora Così E così No Allora Facciamo Cottage Quella Quella di Sprus Dove cazzo è Fammi capire una cosa C'è di tutto Di tutte le 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 La legna Tranne che di Da Cosa Ma perché C'è un legno Vanilla Boh Vallo a capire Vallo a capire Non ho capito Cioè Questa Questa cosa Non l'ho capita Sinceramente Ragazzi Carina Dai 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 Va bene Va bene Va bene Poi il pomello d'oro Ma stiamo scherzando Bellissimo Allora Andiamo a fare Proprio Un paio di Pressure plate In modo da Riuscire a chiudere La porta Poi riprendiamo I materiali Edili O edili Facciamo Così Questa La carta Non so perché E' sparita Dall'inventario Ragazzi Mi serve una farm Di cibo Ma Proprio Urgente Non ho Assolutamente Cibo Questo Cazzo Ne Dà Saturazione Non pensavo Ad essere Tutta questa Saturazione Allora Mi servono Ma Possiamo Prendere Anche due Di questi Per fare Diciamo L'entrata No Tanto Tutta l'erba Sta facendo Un fascio Ah Così Bellissimo 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 Ora Di là Dove Praticamente Ho lasciato Quell'altro Bucco Voglio fare Una sorta Di Di Camino Quindi Questo Dovrà Sparire Compresa Anche La legna Da qua E compreso Anche Da qua Classico Mattino Mattino Classico Camino Fatto In mattoni Dovrei avere La crafting table Di qua Andiamo a fare Un paio Di cose Così Vediamo Se così Va meglio Si Poi magari No dovrei avere Già delle Ecco infatti Delle brick stairs Senza andare A sprecare Così E poi tipo Magari Facciamo No Non così Ma così Perfetto Anzi Aspetta un attimo Ma se io faccio Una cosa Si Sembra 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 più accettabile Più carino Dai Facciamo così E così Però aspetta Questo tanto vale Toglierlo Però lì ci volevo Mettere Anzi no Perché qui ci volevo Mettere delle Gratte In modo che Se c'è il fuoco Allora qui Ovviamente Togliamo Qua ci sarà La netherrack Giustamente No Allora Qui Facciamo Sempre La Come si dice No La variazione Di materiale In modo che sia Un attimino Separato No Poi qui L'ho fatto Un po' troppo stretto Effettivamente Facciamo Un bel fuoco C'è un bel Cammino Grande Così Molto bene Ora Non so Quanto sarà Grande Il cammino C'è la La casa Quindi Lasciamo il cammino In stand by Per un attimo E Lo finiremo Dopo Quando arriveremo A fare Diciamo Anche La parte Superiore Della Della Casa Ora Per quanto riguarda Ovviamente La camera Da letto Sarà Il piano Di sopra Mentre qui Andremo a fare Magari Una zona Di storing Base Molto Molto Base Tipo Le prime Cose Idiote E poi Sotto Nel basement Faremo Proprio La zona Di storing Con la Refined Quando avremo La refined Potrò Mettere Direttamente La refined Qui E ciccia Tanto Contate Che La base Si Questa Sarà La nostra Base Ma Raga Non sarà Non faremo Tutto Let's play In questa Base Qua Perché Sarebbe Improponibile Cioè Sarebbe Troppo Stretta Come Base Ragazzi Allora Per Continuare Il secondo Piano Ovviamente Un paio Di cosine Molto Carine Perché Vivendo In Germania Dovete Sapere Che Le case Sono Molto Carine Sono Molto Belle Tratto Tornando Dalle Ferie Tornando Dalle Ferie Ho visto Anche Le case Svizzere Mi è Capitato Di vedere Le case Svizzere Ed è Stato Veramente Molto 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 Carino Poter Vedere Diciamo Come Come Facessero Le case Gli Svizzeri Allora Innanzitutto Possiamo Mettere Magari Tipo Questo Tronco Così Questo Continuare Così Poi Uniamo Questo Ecc 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 Qua Non serve Ragazzi Qua Possiamo Anche Non Metterlo Ok Una volta Fatto Tutto Ciò Dove Praticamente Si Vede Il Tronco Mettiamo Queste Trapdoor Così Per Abbellire No Tanto Tanto Non Sono Tantissime Però Tipo Anche Qua Ah Cazzo Però Qua Ecco Questo Facciamo Così Direttamente Perché Ovviamente Non Non potevamo Mettere Entrambe Le cose Allora Di qua Sembra Abbastanza Stabile La cosa Dai Allora Siccome Dovrò Fare Avanti Indietro Da sopra Dire Di fare Delle scale Molto Semplicemente Facciamo Così Delle ladder Poi Ovviamente Andremo A Rimuoverle Facciamo Così Allora Il pavimento Di sopra Il pavimento Di sopra Cosa Possiamo Usare Stavo Pensando Di usare Il birch Di nuovo Legno Si Dai Di nuovo Legno Un legno Magari Un po' Più Chiaro Oppure Possiamo Usare Lo stesso Legno Che C'è No Sarebbe Ridondante No Non mi piace Non mi piace Non mi piace Allora Dov'è Che abbiamo Il birch Il birch Dovrebbe Essere In questa Foresta Qua Andiamo A vedere Scusa Non volevo Non volevo Bus Allora Andiamo A ottenere Un po' Di birch Anche Che Poi Possiamo Anche Intervallarlo All All'Oak Che Risulta Un po' Più Chiaro Diciamo Delle Altre Legne Tipo Quello Di Spruce Dark Ork Eccetera Possiamo Intervallarlo Ork Ork Spruce Ork Birch Eccetera Eccetera Questo è il legno Meeple Ma anche questo Non è male Molto bene Molto bello Molto 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 carino Dai Quindi vediamo Come ci sta Il Maple Allora Innanzitutto Il piano di sopra Sarà Leggermente No Oh si No no Si si Possiamo farlo Sporgere Il muro Il muro Lo possiamo Mettere Qui sopra 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 Il tronco E poi Vediamo Vediamo Come vanno Le cose Dai Aspetta Qua Possiamo Fare Che Il tronco Lo mettiamo Di qua Piuttosto Che Metterlo Ok Così Va Molto Molto Bene Non so Perché ho fatto Questa cosa Si Ci potrebbe Stare Però Volevo Fare Una cosa Del genere Non usiamo Tutto il Birch Perché Tanto Dovrò Andare A raccoglierne Dell'altro Perché Allora Innanzitutto Proviamo A riempire Tutto così Poi Mano a mano Lo andiamo A sostituire Perché Voglio fare La stessa cosa Che ho fatto Per il muro Di giù Farlo Per il pavimento Di Di sopra Però Andando a Cambiare Magari La legna Facendo Un paio Di Texture Variation Una cosa Ok Cioè che Poi anche Lasciarlo così Non è Non mi dispiace Ragazzi Se devo essere Sincero Anche lasciandolo così Non è male Allora Io direi Di andare Un attimino Di qua Facciamo anche Un ponticello Così almeno Non rompe più Le balle Andiamo a fare Un paio Di Di Torce Che ovviamente Non terremo Le torce Vettro 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 Con Facciamo così Dov'è il ferro Abbiamo le nugget Direttamente Perfetto 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 Un po' dispendiose Però Utilizziamo le Lanterne Della No Che fighe Ma Stai scherzando Sono bellissime Possiamo colorarle Questo Che cazzo Piazzabile Nel muro Addirittura Ah no Sempre stato così Street lamp Post Minchia Che bello Cazzo Queste Sono molto Carine Dai Ci vuole La tinker Table Però Lasciamo Direttamente La Cosa Vanilla Dai Per una volta Lasciamo le cose Vanilla Allora Qui Volevo Mettere Una scala Per arrivare Al secondo piano E per arrivare Alla camera Quindi Tipo Facciamo una cosa Del genere E poi Piano piano Andiamo Illuminare Tutto Quanto Per esempio Qua Mettiamo Una luce Perché Imprimiamo F7 In modo da vedere Dove Dover Piazzare Le lanterne Una qua Lì Contate che ci sarà Il fuoco Quindi non ne abbiamo Bisogno Però Un paio Magari Magari Piazzate Così A caso Questa Magari No Però Così Anzi Magari Una Qui Qui ci sta Bene Dai Sì Sono Abbastanza Soddisfatto Ragazzi Sono Abbastanza Soddisfatto Altri Altri Due Cori Grazie Molto Gentile Molto Molto Gentile Allora Come facciamo La scala Io direi di farla Di un altro Materiale Non è che mi convinca Più di tanto Allora Proviamo Innanzitutto Buttiamo tutta Questa roba Qui dentro Poi Prendiamoci Magari 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 Della Poi qua È da illuminare Ovviamente Però Lo faremo Più avanti Cosa potrei usare Potrei usare Mi ho già fatto No Vabbè Usiamo Della cobblestone Dai Anche se In realtà Un po' Stonerebbe Però Sti cazzi Voglio provare A vedere Come ci sta Con la cobblestone Inizia a prendere Forma La casa Dai Sembra Molto Molto Carina Dai Da fuori Si Poi vediamo Come combinarla Dentro Allora Innanzitutto Questa sarà Ovviamente La L'arrivo No La scala D'arrivo Poi facciamo Così Invertiamo Le cose Piano Piano Oppela Oppela Ma possiamo fare Così E poi Così Perfetto Solo Che Fatta In questo Modo Non Mi piace Tantissimo Possiamo fare Magari Un pilastro Qui Un pilastro Di qui E qua Magari Ricaviamo Uno spazio Facciamo Una cosa Del genere Vedere 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 Ci può Stare Ci può Stare Dai Ci può Stare Ci può Stare Ci può Stare Prendiamo Delle Le trapdoor Voglio Vedere Come si Comportano Anche Queste Mi Piacciono Si Così In questo Stile Un po Vecchio Vecchio Rustico Eccetera Eccetera Facciamo Così E Così Si Dai Dai Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Poi qua Ricaviamo Uno spazietto Magari Lo possiamo Utilizzare Per altre Cose Qua Saliamo Di sopra E Dobbiamo Iniziare A pianificare Per il piano Di sopra Ci penso Un attimo Allora Prima di Continuare Perché Perché Si Volevo Fare Il magnete Anche Perché Tanto Comunque Tutti Materiali Dovremmo Averlo Un ender Perl Dovremmo Averli Ferro 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 Delle mie Brame Dove Ti ho Buttato Eccolo Qua Redstone Lapislazuli Poi c'è L'altro Che vuole Un diamante Due gold Stessa cosa Di prima Quindi Questi Ce li ho Cosa Ne manca Loro E Un'altra Ender Perl Più Una Blaze Le blazer Ne ho Tenuto Mi Sembra Sono Andato Nel Ecco Fatti Un po' Pochine Però Facciamo Così E così Perfetto Mi manca Solamente Un diamante Che possiamo Trovare Nel Nel Curri In realtà Li ho portati A casa I diamanti Quindi Sì Non so Perché sono Venuto Qua Vabbè Home Dove 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 Ok Magnette Magnetto E fine U Magnette Avanzato Ah Molto Meglio Molto 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 Tra l'altro Lo possiamo Mettere Anche Mi sa Qui Dentro Non so Dove Di preciso Ah ok Eccolo Qui Allora Stavo pensando Per Le mura Di sopra Volevo Una parete Chiara Però Non volevo Una parete Diciamo Di pietra Volevo Una parete Legnosa Quindi Volevo Fare Una cosa Di questo Tipo E poi Tutta E poi Striparla Semplicemente Siccome Volevo Vabbè Qua Purtroppo Ho strippato Anche Lo Spruce Però Non è un problema Ne abbiamo Grande quantità Quindi Lo possiamo Lasciare Però Siccome Qua Io volevo Fare La camera Da letto No Però Mettere Il letto Così Vicino Alle scale Non è che Mi piaccia Più Di tanto Ma Lo possiamo Mettere Di qua Proprio Nella parte Più Più Larga Cosa Del genere E fare Tutte Le Vetrate Che Volevamo Fare Allora Qua Vetrate Non ne Voglio Qua Mi piacerebbe Avere Delle Vetrate Qua Non mi interessano Qua Si E Qua Si Ok Così Dovrebbe Andar Bene Ok Raga Allora Io direi Di farla Alta 3 Anche Se Sembra Che La Vetrata Magari Potrebbe Stonare Un po Col Tetto Ma Non È Così Non È Non È Assolutamente Così Poi Da Qua Volevo Ovviamente Finire Qua Col Solo che Adesso Così Questo Togliamo Ah Che c'ho il magnete È vero Me l'avevo Completamente Dimenticato Molto Meglio Adesso C'è Abituata Adesso A Dover A Giocare Senza Magnete Adesso Che L'improvviso Ce l'ho Ovviamente Non ci Devo Abituare Un po' Ok Facciamo Così E Così Poi Da Qua Ancora Non so Da dove Più o Meno Precisamente Potremmo Fare Così E Così E Poi Da qua Ovviamente Far partire Il solito Tronco Che fa Ah Non da qua Facciamo Da Un po' Più Sopra Ok Raga Ora Viene La Parte Un po' Più Difficile Ovvero Quella Di Praticamente Fare Il tetto I tetti Sono Sempre Complicati Ragazzi Sono Un po' Una Rottura Di Scatole Ti devi Un attimo Incasinare Fare Però Vabbè Dai Diciamo Che Abbiamo I nostri Metodi Abbastanza Semplici Per Le cose Come Sono Per Il Momento Prendiamo Solo I blocchi Per Fare Il tetto Anche se Il tetto Effettivamente Lo potrei Fare Con I brick Con I stone Brick Perché Inizialmente Ho pensato A farlo Con La variazione Di materiali Che abbiamo Fatto Prima No Tipo Cobblestone Cobblestone Rockystone Eccetera Eccetera Come Ho fatto Per Il muro Qua Volevo Farlo Anche Per Diciamo Come Si Chiamano Per Il tetto Però Poi Ho cambiato Idea Adesso Ho cambiato Idea Allora Qua Togliamo Andiamo Verificare Se c'è Magari Dall'altra Cobblestone Negli Altri Pareti Mi sa Di si Comunque Poi Dovremmo Fare Non so Se c'è La Magnum Torch No Ah Eccola Qua Tra E' Semplicissima La Fare Perfetto 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 Possiamo Fare Tranquillamente Ecco Qua Un po Di Cobblestone Very Good Ah Molto strano Strange Dottor Strange Facciamo così Ehi ciccio E tu si come immobile Allora Andiamo A vedere Per il tetto Come poter fare Come poter fuggi Allora Innanzitutto Ci serviranno Un casino Sicuramente Di Stairs Stonebrick Stairs Quindi Non voglio Fare un tetto Enorme Che non Avrebbe senso Però D'altro canto Non lo voglio fare Nemmeno Troppo piccolo Come poter fare Come poter fare Allora Possiamo farlo Sporgere Effettivamente Di No Però sta già Sporgendo Così Dobbiamo fare Una cosa Del genere No Poi Voglio guardare Un attimo Da lontano Come si Non mi piace Non mi piace Potremmo Effettivamente Ma Langerling È molto Difficile Da fare Non so Non so Non so Pensarci Ancora Allora Ma vabbè Lo possiamo Far sporgere Effettivamente Perché Possiamo fare Una cosa Di questo Tipo Poi Qui Dietro Fare Così Sì Dai Non è Non è Non è Non è male Non è per niente male Però Magari possiamo Migliorarlo Perché Perché qui C'è questo blocco Potremmo Effettivamente Fare un'altra Cosa Allora Aspettate Ragazzi ve lo faccio Vedere subito Allora Facciamo così Possiamo fare così Così E così Tra l'altro Questo rende Il tetto Inspaunabile Perché Abbiamo messo La slab Nel livello Di mezzo Quindi Se noi Premiamo F7 Vedete Qui Non può Spawnare Niente Perché abbiamo Messo la slab Nel livello Di mezzo Quindi Ancora meglio Allora Provo A vedere Come esce Tutto il tetto Ci vediamo Fra un po' Ok Per finire In bellezza Facciamo La guandina Se c'è Ok Perfetto Come potete Vedere Aspettate un attimo Se riesco a trovare L'uscita Come potete vedere Il tetto Sta andando Alla stragrande Mi piace molto Questa casa Devo essere sincero Mi sono impegnato Veramente A farla Dai Ovviamente Ci sarà La mansarda Come ce l'ho io Nella realtà A casa mia Ci sarà anche qua Allora Prima di usare La guandina Però Ragazzi Vi consiglio Di delimitare Ovviamente Con i bricchettini Il tutto Ciò Perché Se no Poi Rischiamo Di sbagliare Molto 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 Quindi Evitiamo Di farlo Perfetto Facciamo così Facciamo cosa Tra la lero Tra la lero La Perfetto 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 Facciamo così E Così Perfetto Quindi guandina Tettuccio Abbiamo Il nostro Tettuccio Qua È vero che ho detto Che non voglio Vettrate Però Non mi piace Molto Quindi Cazzo Ciovola Creativa Però È anche Vero Che Raga Non mi sta Piacendo Molto Questo Muraglione Così Enorme No No Probabilmente Faremo In un modo Diverso Poi 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 Qua Volevo mettere Delle slab In modo Che Anche la Mansarda Non sia Sponabile Di che Materiale Di che Materiale Di che Materiale Io direi Di Vabbè Stavolta Di utilizzare Lo H Lo H Che Bontà Lo H Che Non era In quel senso Cioè Non è scritto Lo H Lo H Bo Vabbè Parti gli scherzi Andiamo subito A fare La nostra Il nostro C'è La delimitazione Diciamo Della Mansarda Ok Così Va Molto Meglio Allora Dicevo Che Non voglio Diciamo Che sia Troppo Buio Qua Raga Perché Comunque Ho scelto Proprio L'unico Punto In cui Non potevo Fare Niente Qua Magari Facciamo Delle Piccole Vetrate No Una cosa Del genere Senza Esagerare Troppo Tanto Abbiamo La vetrata Qua La vetrata Lì La vetrata Lì Quindi È abbastanza Ampia Come cosa Possiamo Fare Una piccola Finestra Qua In modo Da Non lasciare Le cose Troppo 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 Accumulate Diciamo Quindi Dicevamo Abbiamo Del vetro Dell'ottimo Vetro Possiamo Fare Dei plane Thank you So much Buttiamo Dentro Tutta Sta roba Che non Mi serve Poi Dovremmo Avere Da qualche Parte Il vetro Che ho usato Prima Però Lo vogliamo Cambiare Mi sa Proprio Di sì Dai Facciamo Così E vediamo Cosa Possiamo Eh ma Mi sa Che È quello Che mi Convince Di più A meno Che è Di usare Questo Proviamo A vedere Come esce Dai Sì Dai Ci può Stare Ci può Stare Allora Mi servono Le lanterne Che non So se Ah non C'è Quella Quella Visualizzazione Ah eccola Qua Allora Facciamo F7 E mettiamo Eh Ah ok Ma Io direi Una lanterna Qua nel mezzo Anche se non è perfettamente Nel mezzo Una lanterna Qua Una lanterna Qua E direi che siamo Anche a posto Qua mettiamo Il letto Poi ovviamente Lo sistemeremo Meglio Qua facciamo All off Perché Non mi piace Qua Ma Dezoomiamo Poco a poco Ragazzi Siamo pronti Ci manca Solamente Da finire Questa Possiamo Togliere E mettere Di qua Perché qua Avremo Nell'unico Punto In cui Non potevo Salire Giustamente Perfetto Facciamo così La mansarda Molto Bene Molto 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 Bene Infine Per completare Diciamo L'opera Facciamo Una cosa Di questo Tipo No E' vero Che ho usato I gradini Dall'altra Parte Ma Sostituiremo Il tutto Facciamo Così 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 E così Qua metteremo Dei vetri Raga Metteremo Subito Dei vetri Ragazzi Io vi saluto Qua Ovviamente La mansarda La finisco Off camera Questa E' la nostra Piccola Casetta Tanto c'è da finire Anche il cammino Lo farò Tranquillamente Off camera Qua Metterò Magari Tipo Una porticina Che da sul retro Dove faremo Un piccolo orto Perché Tanto Dovrebbe essere Abbastanza Spazioso Come orto Così Massimo Lo ingrandiamo Poco a poco E un orto Cioè Voglio un orto Così Semplice Proprio Piccolo Piccolo Magari Tipo Possiamo Fare Delle Delle Mura Cioè Diciamo Dei Confini Attorno All'acqua Questa Torre Ragà La voglio Buttare Giù Cioè Proprio Del tutto Magari Lasciamo L'accesso Al Dungeon Con Un elevator Non lo so Adesso Vediamo Comunque Vedremo 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 Questa Sarà La nostra Base Momentanea Cioè Iniziale Poi Ovviamente Come detto Precedentemente Ci sposteremo Faremo Delle altre Abitazioni Magari Qui Nel bosco Faremo Tipo Un affarno Di alberi Con la casa Del boscaiolo Eccetera Dovrebbe esserci La bonsai pot Si C'è la bonsai pot Quindi possiamo Utilizzarla Per farmare La legna Qui possiamo Mettere di là E farmare Tanta Tanta Legna Ma ragazzi Per il momento È veramente Tutto Io sono Matt Ci vediamo Alla prossima Alla prossima